Il treno regionale 17781 di Trenitalia Tipper, proveniente da Bologna Centrale e diretto a Forrezza Terme, delle ore 18 e 51, è in arrivo in ritardo al binario 1. Ferma in tutte le stazioni eccetto un vecchio Marconi, Carbona. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 17781 di Trenitalia Tipper, proveniente da Bologna Centrale e diretto a Forrezza Terme, delle ore 18 e 51, è in arrivo in ritardo al binario 1. Ferma in tutte le stazioni eccetto un vecchio Marconi, Carbona. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla.